musica 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 approfitto perchè questo vagone è completamente vuoto faccio siamo quattro persone su tutto il treno questo lo faccio come intro racconto il viaggio che faccio il mio compleanno lo spacchetto perchè è spettacolare due ore e mezza dalla città al Giappone proprio all'interno nei villaggi abbiamo cambiato dei treni ogni treno mostra dei scenari particolari seguite i video di dividere in base poi gli appuntamenti che saranno quello del treno viaggio in treno, la stanza l'onsen, il ryokan la cena, la colazione perchè sono tutti quanti fasi spettacolare del viaggio e voglio raccontarle e farvi vedere in ogni singolo particolare in maniera che potete condividere prendere idee grazie per essere su questo canale raga, divertitevi grazie 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 a tutti. 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 Perché sapere è di tutti. Un bacio dal Giappone.